Prendiamo un respiro tutti insieme. Che abbia inizio la 74esima edizione del Festival di San Renzo. Buonasera! È una serata particolare questa. Allora, Ama, tu fagli delle... Una... Aspetta! Aspetta un attimo! Può accadere di tutto questa sera, ho già capito. Pensa che per fare tutta sta roba abbiamo preso il budget di una puntata di Bella Ma su Rai 2. Io ti aspetto nel frattempo vivo. E gli applausi del pubblico, guarda. E stop!